365 nuovi casi e 76 ricoveri all'ospedale Sampio. I dati del covid nel Sannio sono stabili ed il virus sembra rallentare la sua corsa come confermato anche dallo studio del CNR che ammette benevento tra le città che hanno ormai superato il picco di contagi. Intanto la sinergia istituzionale ha dato un grande aiuto alla lotta contro il virus come dimostrato anche dal lab pediatrico di Ponte Valentino nell'area industriale che in poco più di un mese ha fatto registrare uno sprint sui vaccini ai più piccoli. Il lavoro proseguirà anche nel prossimo mese. Anche per l'Hub la sinergia istituzionale ha rappresentato un ottimo risultato. È un hub che è partito con i sindacati mesi fa per le attività produttive ed economiche. Poi essendo un hub pronto l'abbiamo trasformato in hub pediatra e comunque stiamo utilizzando anche le famiglie perché si stanno vaccinando famiglie complete di dipendenti delle aziende e con i figli. Numeri importanti abbiamo superato le 6.000 vaccinazioni tra bimbi e adulti e stiamo continuando e continueremo per l'intero mese di febbraio. Poi il presidente dell'Asi Luigi Barone rilancia l'appello per la copertura vaccinale dei più piccoli. Ne approfitto per fare un appello alle vaccinazioni soprattutto più piccole perché se vacciniamo i bimbi ed evitiamo il contagio nelle scuole tra i bimbi possiamo migliorare questa fase del Covid.